Cantina di Boario. Vendita vini sfusi e confezionati dal Piemonte, Veneto, Oltrepo Pavese, Franciacorta e Valdobbiagena. Si possono avere frizzanti o fermi a secondo dei vostri gusti. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19 e anche la domenica mattina. Ci trovi in Corso Italia 15 a Boario Terme, telefono 0364 53 57 78. Realizziamo confezioni regalo personalizzate. Oltre al buon vino troverai anche dell'olio pugliese e di frantoio.